Il rispetto grandissimo per la fatica che fate ad attendere sotto questo. Grazie mille. Com'è andata? Bene. Bene, tutto bene, nessun tipo di attrito su nessun punto, ma io credo che il Presidente Casini adesso ti parlerà ufficialmente, quindi niente di particolare, insomma, è una seduta prefestiva. Però c'è finito già sul fatto che la Serie A possa avere più rilevanza, nel futuro del Consiglio. Senza alterare gli equilibri, ma nel rispetto di quella che poi è la realtà, cioè di una rappresentanza che deve essere coerente con il valore intrinseco della Serie A, che è il driver del calcio italiano, insieme alla Serie B. Insieme alla Serie B, perché io mi ricordo che due anni fa ero in Serie B, ho grande rispetto. Ha avuto modo di parlare di nuovo con Marotta di Wood, non sono per caso? No, allora, i miei rapporti con il Dottor Marotta sono straordinari, lui è un professionista che ne sa di calcio molto più di me. Ogni tanto ci sono delle rivisitazioni, come dire, ecco, io ho detto che Albert deve sognare, però può continuare a sognare anche a Genova. Io auspico che continui a sognare a Genova, comunque quindi non c'è alcun tipo di problema, al di là di quello che sarà il mercato, che non è deciso da me, come ho già avuto modo di dirvi. Però, ecco, l'impressione, come ha già detto il nostro allenatore, è anche quella che Albert possa restare in Liguria. Ma quale sarebbe la cifra per cui... No, io ho delle cifre, guardate ragazzi, io non so cosa ho in tasca in questo momento. Può restare anche Retechi, al giro. Può restare anche Retechi. Può restare tutti. È l'Inter che la bacchetta perché... È l'Inter, l'Inter, che la bacchetta perché non gli dà curioso. L'ultima battuta, Presidente... Allora vedete che non conto un cazzo. L'ultima battuta, ma Vasquez è un nome di cui ha parlato. Ma Vasquez resta dov'è. Piano, 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 che ci facciamo male. Grazie. Ha fatto arrabbiare il Presidente Zangrillo. Ha fatto arrabbiare Zangrillo. Ha detto che Vasquez non arriva. Grazie.